Noi stiamo a quasi sei anni di amministrazione, in questo momento io non avevo una convincente ragione amministrativa di mutare la Giunta, la Giunta sta facendo un buon lavoro anche se comunque noi ci mettiamo sempre in discussione tutti, io per primo, così anche gli assessori e tutti noi, però stiamo anche in una fase di crescita dell'azione amministrativa e politica del nostro progetto, quindi il Sindaco deve mettere insieme azione amministrativa, forza della coalizione, voglia di tanti di dare una mano per consolidare il progetto politico e da dopo l'approvazione del bilancio di previsione mi sono preso questo periodo, pur non smettendo un secondo, di fare le attività ordinarie per riflettere nella maniera più giusta, per non solo non rallentare l'azione amministrativa ma rafforzare quella amministrativa e quella politica. La cosa che mi fa molto piacere è che i cambi che andremo a fare e che annuncerò domani alle ore 13 in una conferenza stampa che si terrà presso la Sala Giunta del Comune di Napoli e che tutto questo avviene nell'ambito di una squadra che condivide in pieno il progetto politico, che non è più quello di amministrare solo la città di Napoli, Napoli è diventato un soggetto politico che supera addirittura i confini nazionali, ormai questo è evidente a tutti, non è frutto del caso o delle coincidenze ma è frutto di aver dato forza e determinazione al popolo. L'unica nota stonata, devo essere sincero, di questo momento di riflessione è questa ingiustificata da un punto di vista politica o decisione di Lebro e Solombrino. Non dico la città perché ieri sono stato rimproverato affettuosamente dal Presidente Pasquino il quale mi ha detto guarda tieni per sé ci tengo a dirti che non è la città perché lui si dice che insomma è il titolare della città, quindi dico Lebro e Solombrino quella è una questione, non trova giustificazione perché appare contrariamente a quello che erano sostenuti in conferenza stampa un atto se vogliamo un po' estremistico quello loro visto che sono stato rimproverato di aver abbandonato l'area, abbandonato, aver spostato l'asse a sinistra, voglio dire con Davide Lebro fino al giorno prima abbiamo condiviso tutto, questo è un dato di fatto, quindi o allora è stato lui, si è spostato a sinistra e dalla sera alla notte, anzi dalla notte alla mattina ha avuto un sussulto diciamo di convincimento dell'errore che sta facendo oppure credo che sia stato un errore, un errore perché in questo momento in cui la città è così lanciata in sfide così importanti lasciarla non ha senso anche perché quel gruppo ha sempre avuto riconosciuta una legittimazione forte sul piano politico e amministrativo, la proposta che io avevo fatto loro è una proposta di grande forza politica, a questo punto io mi auguro che non sia così, un po' il dubbio mi viene e allora meglio che abbia preso una decisione di questo tipo che ancora non avevo preso ma la luce della conferenza stampa di Lebro di ieri l'ha presa lui prima ancora che la prendessi io, avendola non ancora presa, non vorrei che ci fosse stata già una decisione in altri liti politici perché altrimenti io veramente non riesco a comprenderne le ragioni, quindi non chiudo solamente questo piccolo passaggio e ovviamente detto questo le nostre porte sono aperte perché proprio perché è un progetto che si sta allargando, noi riteniamo la maggioranza anche alla luce di quello che è accaduto oggi, non solo non indebolita, noi ci sentiamo ancora più forti e coesi e abbiamo ragione di ritenere che qualitativamente e quantitativamente noi avremo un consolidamento e un allargamento della maggioranza per le prossime scadenze politiche e amministrative che da qui al 2021 andremo, su cui ci andremo come dire a misurare. Ma la scelta di Lebro quindi ha condizionato le sue scelte per quanto riguarda gli assessori? No, visto che Lebro si è preoccupato di togliermi dall'imbarazzo e lo voglio rasserenare che non ho mai avuto alcun imbarazzo se non una difficoltà come si è visto anche oggi, difficoltà politica, istituzionale, consentite ma non anche umana. Questa è stata una delle decisioni più difficili perché non è come quando è finito il rapporto con alcuni assessori di cui francamente io avevo avvertito la non adeguatezza rispetto al progetto, senza fare nomi che è sgradevoli. In questo caso no, è stata una decisione molto complessa e difficile. Io dagli ultimi incontri, considerando la proposta politica che avevo fatto alla lista della città, prima che Pasquino dicesse, ci fosse questo passaggio. Quindi diciamo al gruppo, è una proposta politica addirittura di grandi prospettive. Allora, siccome abbiamo condiviso tutto in questi anni con Lebro, Solombrino, devo dire che è venuto da un anno, ma con Lebro ormai sono circa 5 anni abbondanti che si condivide un progetto, c'era addirittura chi riteneva che Lebro avresse un peso addirittura superiore alla sua forza politica, quindi non c'è nessuno spostamento a sinistra. Anzi, vedrete che le scelte che non voglio anticipare, perché lo dirò domani su alcune cose, altre nella prossima settimana, io credo che si va proprio in una direzione esattamente opposta a quella di cui si è paventato in queste ore sui giornali. Quindi, anzi, cioè in che modo? Nel sempre maggiormente provare a rappresentare questa esperienza amministrativa, l'unità nelle diversità all'interno della città. Soprattutto tenendo fuori, e questo lo posso anticipare adesso, lo dirò meglio domani, tutte le società partecipate da qualsiasi tipo di ragionamento, chiamiamolo politico, come avviene nelle coalizioni, negli assessorati e nelle municipalità. E quindi andando, come dire, ad individuare persone ben radicate nella nostra città, indipendentemente dalle loro idee politiche, vuol dire un sindaco che non è affatto né estremista né che si sta allontanando da chi lo sa quale progetto, ma che anzi è anche alla luce del dialogo forte, sempre più produttivo di fatti che c'è col governo nazionale e alla luce anche della stretta di mano, che non è un fatto di stretta di mano, ma alla luce di quello che è accaduto, come si è costruita, l'incontro al Gambrinus e altro, lascia prefigurare delle cose positive sul piano politico, a me la nota, l'atteggiamento di Libro mi pare veramente una nota stonata, che potrebbe avere tra virgolette un tono musicale, politicamente parlando, se c'è qualcos'altro, di cui adesso io francamente non riesco a accorgermene, perché insomma poi io sono abituato alla lealtà, quindi siccome fino al giorno prima Libro ha detto che faceva parte del progetto politico, sono cose che ci vediamo la mattina, dice no, io passo all'opposizione, per quanto ne ho viste tante nella mia vita, avrebbe chiesto a lui una maggiore risposta, senza dire che il sindaco si è spostato a sinistra, sono sempre lo stesso, ormai mi conoscete da sei anni. Libro aveva già deciso la sera prima di fare la conferenza stampa, la stretta di mano con De Luca, eravate presenti voi, o comunque i fotografi hanno scattato delle foto, è stata una cosa cui credo molti hanno lavorato e anche auspicato che questo avvenisse, io sono contento che ci sia stata, perché mi potete dare atto che in questi mesi ho molto lavorato perché questo avvenisse ed è per questo che non do solo il valore della stretta di mano, che di per sé è un fatto neutro e fino anche è un po' squallido parlare di una stretta di mano, ma perché ho visto e ho notato anche dei segnali su degli atti amministrativi che lasciano prefigurare. Libro ha dimostrazione, vedete, di come noi valorizziamo le differenze nella nostra coalizione. Quando Libro, fai bene a farmi quella domanda, si candidò con Campania Libera, voi vi ricordate, vi ricorderete bene, io scelsi la strada del non schierarmi in quella campagna per le giornate, secondo me in modo molto corretto e lasciai, come dire, ampia libertà, perché nemmeno me lo chiedessero, perché io sono fatto così, a tutti i componenti della nostra coalizione, addirittura Davide è entrato proprio in competizione, poi non è stato eletto, ma ha fatto campagna aperta per De Luca, io non so se là ci sia altro, questo non lo so, io a me spiace, perché credo che loro potevano dare un grande contributo, io non voglio ancora chiudere la porta, perché potrebbe anche essere un momento di amarezza, perché magari aveva percepito che non ci fossero posti in giunta per l'assessora da loro indicati, quindi questo ci sta, però tradurre l'amarezza in un passaggio che poi diventa politicamente incomprensibile e soprattutto immagino anche il suo elettorato poco capirebbe di fronte a una cosa di questo tipo, perché gli interessi superiori sono sempre quelli delle moltitudini della città e del popolo, poi vengono le amarezze personali, quanti di noi ne hanno avuti in alcuni momenti anche all'interno della giunta, delle altre forze politiche, quindi non mi sento di, almeno da parte mia non c'è un'atteggiamento di rottura, c'è amarezza ma la speranza che questa decisione possa essere rivista, salvo che non ci sia però, ecco dell'altro ovviamente, perché poi sennò... Ma come dire, non è anche anche dal punto di vista del rafforzamento del progetto politico, ti posso chiedere una motivazione in più, perché può sembrare contraddittorio, uno dice rafforzo il mio progetto politico rinunciando a quello che... Domanda assolutamente legittima, però se me lo consentite risponderei domani in conferenza stampa, perché domani in conferenza stampa ovviamente illustrerò le deleghe, spiegherò chi è il nuovo assessore al bilancio, le ragioni del perché ho scelto una determinata persona al bilancio, spiegare bene perché, come giustamente nella domanda mi dite, mi sento non indebolito ma consolidato, quindi detta così la domanda è legittima e può far venire fuori elementi di perplessità, invece credo che abbia fatto la scelta giusta, perché dovendo, e lo spiegherò bene domani, dovendo fare delle scelte di cambiamento, chiaramente poi spetta il sindaco in una squadra che è tutta forte, è tutta farta di persone, come dire, tipo Palma, per dire, non è che se uno invece di Palma... Noi siamo veramente una squadra di persone molto legate, coese politicamente, sentimentalmente, umanamente, quindi se invece di Palma l'avesse parlato un altro ci sarebbe stata la stessa cosa, quindi o uno non cambia e fa prevalere esclusivamente ragioni amministrative o ci sono anche altre ragioni, ma devo dire che comunque, noi l'abbiamo sempre detto, anche la squadra è sottoposta sempre, come dire, anche a valutazioni che in alcuni momenti possono prevalere ragionamenti di un certo tipo rispetto ad altri. Domani quando, insomma, in conferenza stampa indicherò le ragioni perché ho voluto fare dei passaggi sul bilancio, questa domanda avrà una risposta più chiara, insomma, anche perché andiamo su una fase anche un po' più politica che tecnica, quindi c'è bisogno di qualche passaggio di questo tipo, non mi riferisco semplicemente alla coalizione, mi riferisco anche alla scelta delle deleghe di cui parleremo appunto domani.